Porta ancora bene il Francioni di Latina al Pescara che ottiene la quarta vittoria in 5 gare giocate in terra laziale mantenendosi così a punteggio pieno dopo 180 minuti di campionato. Non tragga in inganno il 2-1 finale con i biancazzurri che hanno mancato occasioni a raffica nell'arco dei 90 minuti. E ora il Crotone, ma il Pescara c'è e piace e i tifosi fanno giustamente festa per un successo importante. Rispetto al match con l'Avellino spazio a brosco in difesa per l'acciaccato in grosso, Jabois centrocampo per Germinario in avanti con ferma per Dele Monache con Cuppone e Lescano. Al secondo minuto contropiede da manuale per i biancazzurri con Cuppone che si fa 40 metri di campo prima di mandare la palla sul palo esterno della porta di Cardinale. Al settimo Lescano l'occasionissima per sbloccare il punteggio con Dele Monache che serve il pallone all'ex attaccante della Virtus Sentella che trova però il salvataggio sulla linea di porta di Giorgini. Partenza con il piede pigiato sull'acceleratore per il Delfino al ventitresimo Cuppone sul filo del fuorigioco a divorarsi la rete del vantaggio. Il Pescara preme e dopo qualche attimo su angolo di Craia mora di testa, fa 1-0 regalando alla sua squadra un vantaggio meritato. I biancazzurri non si accontentano e dopo tre minuti Cuppone si riscatta dagli errori precedenti e segna in contropiede il gol del 2-0 che fa esplodere la gioia dei 270 tifosi pescaresi presenti in Curva Sud. Gara che vede un netto dominio abruzzese con i nerazzurri in palese difficoltà. Al 39esimo buona conclusione al volo di Tessiore il migliore dei suoi con la palla fuori di poco. Locali un po' più propositivi ma fino all'intervallo non accade più nulla con il primo tempo che si chiude sul punteggio di Latina 0, Pescara 2. La ripresa inizia con Colà in campo per Delle Monache nel Pescara e nel Latina San Nipoli al posto di Barberini. La squadra di Didonato spinge con più convinzione e Colombo manda in campo Tupta e Germinario per l'Escano e Giabois. La partita resta tirata con il Pescara che gioca ora a difesa del doppio vantaggio non riuscendo mai a proporsi pericolosamente in avanti. Con il trascorrere dei minuti però il Delfino guadagna qualche metro in una parte finale di partita che regala ancora emozioni e che vede al 28esimo Cuppone fallire praticamente un rigore in movimento con Cardinali che salva. Poco dopo il Latina resta in 10 per il doppio giallo a Carissoni che entra duro su Cancellotti per il difensore del Latina doppio giallo e rosso. Squadra di casa che resta in 10 ma che ha un colpo di coda con Germinario che va a commettere fallo poco dopo in area su Fabrizi con Angelucci che assegna il penalty e con Rossetti che dagli 11 metri mette il pallone all'incrocio accorciando le distanze per la sua squadra e riaprendo una partita che sembrava chiusa. Il finale è vibrante visto che Fabrizi al 42esimo sfiora in mezza rovesciata il 2 a 2 poi 6 minuti di recupero con i crampi di Mora e poi il triplice fischio finale di Angelucci di Foligno che fa iniziare la festa per gli impagabili tifosi biancazzurri arrivati in terra leziale. Il Pescara vince e convince e mercoledì all'Adriatico arriverà il Crotone per un'altra sfida per cuori forti.